Iniziamo, 2, 1, missione e ripetiamo! Il gioco è in early access, non so dirvi il parezzo perché come spesso capita lo sto portando in anteprima, resterà in early access comunque da 1 a 2 anni per permettere tutto il normale sviluppo insomma, però il gioco attualmente è giocabile a detta dello sviluppatore, divertente e ha una quantità piuttosto alta di contenuti per poterci giocare per un bel po' e divertirsi pure. Quindi lo andiamo a vedere, che cos'è? È un colony builder nanico sullo stile di Dwarf Fortress, sullo stile grafico sembra più Rimworld, però insomma questo è quanto. Allora dobbiamo posizionare delle cose, adesso vi faccio vedere che questo è l'inizio della... stile grafico è tipo Rimworld alla fine, forse è un filo più... non saprei... Questi sono dei campi che mi ha fatto mettere il tutorial e ora abbiamo la possibilità di costruire, abbiamo i nostri coloni che sono questi, abbiamo i militari che al momento non abbiamo e i coloni possono avere tre lavori. Quindi svolgere non c'è quella, diciamo, priorità su tutti i lavori. Ogni lavoratore può avere tre lavori, poi possiamo cambiargli ovviamente, però possiamo poi renderlo militare cliccando qui e i lavori sono lo chef, il fabbro, l'artigiano, il coltivatore, il tessitore, il taglialene, il minatore, il tagliapietra, il birraio, il pescatore, il lavoratore della pelle, l'artigiano e poi il colono classico, quindi senza occupazione. Abbiamo la costruzione, adesso vi faccio vedere una carrellata perché ovviamente non vi spiegherò a giocare, cioè insomma continuiamo il tutorial qui ma lo guardiamo. Pavimentazione, la parete liscia, la porta, il ponte, la lanterna, il pilastro, questo è la base della costruzione. Abbiamo la costruzione dei tetti, aggiungere e demolire tetti. Abbiamo l'energia e l'acqua, quindi abbiamo l'irrigazione, i tubi, la potenza, il pozzo, la ruota d'acqua, la pompa d'acqua insomma. Abbiamo la possibilità di demolire, mentre qua abbiamo, allora aspettate che gli ordini sono appunto scava, taglia, rimuovi, estinguere, come capita in tutti i giochi di questo tipo. Altra cosa interessante sono le camere. Le camere ce ne sono un'infinità, si va dall'armeria, la birreria, la camera da letto, il campo da coltivare, il cantiere, la caserma, il cimitero, la cucina, il deposito commerciale, la falenameria, la fattoria di funghi, la segheria, il sala delle feste, la raffineria di carburante, il pelletteria, il panificio, il magazzino, il laboratorio tessile, l'artigianale, fucina e fonderia. Ora dobbiamo costruire le stanze, quindi dobbiamo fare 12 piastrelle di cucina, quindi adesso andiamo a vedere la cucina, ci fa fare 12 piastrelle, poi potremmo scavare anche all'interno della roccia, però al momento il tutorial ci fa fare così. Questi sono campi vari, insomma 12 piastrelle, quindi potremmo passare... Ok, vedete che me l'ha passato. Barile d'acqua, a questo punto possiamo metterci all'interno l'oggetto, ci mettiamo il barile d'acqua. Non me lo fa? Sì, me l'ha fatto, no? Vediamo, cucina. Un piano di lavoro da cucina, che è questo. Posso ruotarlo? Posso metterlo così, vediamo se mi piace. E poi piano di lavoro della cucina, ok? E il calderone. Calderone, lo mettiamo qua. Ma tra l'altro, io potrei anche pensare di espandere la cucina, cliccando qui e facendo più, lo vado ad aggiungere di più zone. Quindi vado a coprire totalmente tutte le influenze della cucina. Adesso abbiamo pianificato questo, possiamo accelerare il tempo e vedere se vanno a costruire. Infatti vedete che si stanno mettendo al lavoro per costruire le varie cose. Come ho detto, non è nulla di innovativo, perché comunque è tutto già visto a livello di rim o a livello così. Però, come dice anche il tutorial e la descrizione Steam, abbiamo pochi nani all'inizio, ma potremmo averne anche centinaia. Quando tutto andrà avanti, ci saranno le varie minacce. Insomma, non è nulla di nuovo, però per gli appassionati di questo genere è eccezionale. Palette di importazione e di esportazione, insomma adesso sta piovendo, non siamo messi proprio benissimo. Ovvero poi, ovviamente, essendo nani andremo a costruire all'interno. È una trasposizione più che rimward, magari un, a parte che la grafica è rimward, ma è più un Dwarf Fortress, più semplice ovviamente. Qua abbiamo la possibilità di allargare o meno la mappa. La mappa è bella grande all'inizio, possiamo scegliere diversi tipi di mappa, media, piccola o grande, vi ho fatto la media. Ora aspettiamo che costruiscano il banco medio della cucina. Qua tanto stanno depositando quello che io gli ho impostato da tutorial, quindi gli attrezzi, abbiamo i campi dove viene coltivata la carota, qua viene coltivato il mais, qui le patate e qua il grano. Ok, intanto non abbiamo ancora modo di poter costruire con la pietra o semplicemente non lo stanno facendo, non lo vogliono fare, non lo so. Potremmo dargli un ordine di poter scavare la pietra. Faccio fare magari una cosa di questo tipo, un po' la rimward, vediamo un po' come funziona. Accelerando un po' il tempo, adesso è notte ancora. No, ma in realtà le stampo di metto la priorità alta, così. Ok, non ho costruito. Il tutorial va avanti, rimetto la velocità normale. L'avitamento del calderone per la sala dei banchetti viene completato solo quando è disponibile un calderone contenente zuppa. Ah, praticamente, i coloni mangiano nella sala dei banchetti, selezionare le stanze e collocare la sala dei banchetti. E tra l'altro qua sta scavando molto lentamente. Va bene, dai, proviamo. Tanto è solo un esperimento. È un esperimento perché lo stiamo provando, insomma. Sala delle feste. Sarà la sala delle feste o la sala dei banchetti? Vediamo un po' se troviamo qualcosa. Fonderia. Birreria. Camera da letto. Vediamo. Mangiano nella sala dei banchetti. Eh, ho capito, ma... Questa è la birreria. Cantiere. Boh. Proviamo la sala delle feste. Tradotto così, ma... Lo mettiamo... Eh, lo metteremo anche all'interno, ma... Al momento è tutto brutto, lo facciamo così. 12, lo facciamo di 20. Grande di 20. E calderone utilizzato per servire la quantità. Beh, intanto qua andiamo avanti, che magari mi fa mettere... Questa sarà... Questa semplice impostazione garanterebbe a questi coloni di avere cibo quando le colture saranno raccolte. È anche possibile pescare dal fiume o cacciare animali una volta creato un esercito per procurarsi più cibo. Molti oggetti sono realizzati con assi... Ah, vabbè, lasciamo perdere allora. Molti oggetti sono realizzati con assi di leni o blocchi di pietra. È importante mantenere una scorta costante. Selezionare ordini, miniera, trascinare una selezione sull'area e montagna per ordinare il minatore e iniziare a ristrarne. Ok, l'abbiamo già fatto. Poi taglia e tagliare gli alberi. Perfetto, è quello che abbiamo già fatto vedere prima. Quindi tagliamo, mi danno fastidio questi alberi qui e li abbattiamo immediatamente. Acceleriamo un po' la velocità. Posso scegliere anche... No. Molto bello. Perfetto, rallento il tempo. Le tavole di legno sono prodotte in una segheria da un taglialeni. I blocchi di pietra sono creati in un'officina di muratura da uno scalpellino. Selezionare stanze e posizionare la segheria in un'officina di muratura. Entrambe richiede una stazione di crafting. Ok. Facciamo... Vedi, non è ancora tutto tradotto, quindi ci sta. Però, per il momento, è lodevole. Calcolando che non è ancora disponibile al pubblico e uscirà nelle access. Allora. Segheria da un'officina di muratura. Ok. Allora, vediamo un attimo. Segheria è qua. Segheria la mettiamo magari qua. Tutto all'aperto, che non ci sta molto, ma vabbè. Segheria con banco da taglialegna, che mettiamo qua nell'angolo. E poi un cantiere, abbiamo detto. Quindi... Segheria l'abbiamo vista. Il cantiere, non mi ricordo mai dov'è. Fonderia, laboratorio artigianale, cantiere. Il cantiere lo mettiamo qua sotto. Vediamo se possiamo farlo così. Con banco da tagliapietre. Perfetto. C'è anche questa qui, frantumazione dei minerali. Perché poi ci sarà anche il carburante, insomma, da produrre per alimentare le macchine. Quindi, interessante. Intanto vediamo se posso mettere la priorità. Altissima e anche qua, altissima, così. Vedete cosa ci serve? Scisto, stagno, ferro. La... Sega in ferro. Sega in stagno, vabbè. Quello che è. Tanto stanno coltivando. Vedete che ha impiantato. La roba poi crescerà. Qua all'interno invece abbiamo questo. Tra l'altro c'è la vista predefinita, che è questa. La vista prioritaria. Quindi praticamente tutte le priorità. Un po' alla oxygen not included. La vista del tetto. E vediamo tutto quello che è coperto attualmente. E quello azzurro invece è tutto quello che è all'aperto. La vista delle tubazioni, che al momento non abbiamo. La vista dell'energia. Molto bella l'energia. Cioè hanno messo in un gioco di nani anche la produzione energetica. Qua in alto ci sono l'elenco delle risorse. Vi dico non è comodissimo come menu che vi prende tutto lo schermo. Vi mette in pausa la partita però. Non è comodissimo. Avrei preferito magari un qualcosa di più piccolo. Alla in world. Però lì poi il plagio è dietro l'angolo insomma. Ora le stanze con i mobili che producono articoli sono controllate con palle di importazione ed esportazione. Questo è molto interessante. Due palle di importazione, due palle di esportazione. E zero di renti per tps trend. Praticamente posso fare banco a taglia legna. Ok. Allora posizionare almeno un palle di importazione in parte della importazione sia nella segheria che nell'officina in muratura. Ok. Quindi io clicco qui. Palle di importazione lo metto qui. Palle di esportazione qui. Mentre cliccando qui faccio, non dice spuglio, ma qua. Importazione lo metto. O qui. E l'esportazione qui. Ok. Quello l'abbiamo fatto. Acceleriamo di nuovo i tempi così almeno lo facciamo veloci. Vedete che stanno già portando le assi. Il tutorial è fastidioso qua ma si può chiudere. Ma potete anche non farlo ecco. Però è utile. Qua abbiamo la carovana con cui siamo arrivati. Ci sono ancora degli oggetti a bordo. Mentre qui no. Possiamo demolirlo anche. Intanto inoltre collocare una scorta di prodotti che conterà gli articoli prodotti. Una scorta di prodotti. Non so cosa voglia dire. Bellino che fa la traccia così. Importazione. Collocare una scorta di prodotti che conterà gli articoli prodotti. Facciamo così. Tra l'altro c'è un'interazione anche con Twitch. Cioè potete diventare il nome del personaggio. Se fosse una live Twitch. Allora vediamo un po' magazzino. Scorta. Non capisco. Dice forse questo. Aspetta. Magazzino. Materie prime prodotti. Sì facciamo i prodotti. Siamo qui. Così. Sì lo chiede forse un po' più grande così. Ok. Fatto. Selezionare ciascun pallet di importazione e importazione. Scegliere l'articolo da importare e esportare. Nella sigheria importare i tronchi e di esportare tavole. Allora vedete la metto in pausa quindi. Allora vediamo un po'. Nell'officina. Nella sigheria. Importare i tronchi. Quindi questo è. Esportazione. Esportiamo assi. Assi da barile. No assi normali. Importiamo invece i tronchi. Tronco 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 di fungo. Interessante. Nell'altra invece importare massi. Esportare blocchi. Blocchi. E importare. Blocco. Così. Credo. Continuate fino a quando non avrete quantità ragionevoli. Blocchi di tavole blocchi. Ok. Andiamo avanti. Continuiamo. E vediamo se. Perché poi tra i nostri inani c'è chi sta lavorando. Chi. Vedete che selezionandolo. Poi vedete cosa. Quanto ha di razioni. Qual è il cibo. Il bere. Il dormire. Insomma si può rinominare. Possiamo vederlo militare. E vediamo i suoi tre lavori. Artigiano. Taglialenia. Il terzo non c'è. E posso darglielo io. E poi lui dovrebbe salire anche. Presumibilmente di livello in quello che fa. E' un gioco che ha dell'immenso potenziale. Soprattutto calcolando che ha già tantissime cose adesso. E che si prospettano 1-2 anni di sviluppo dietro. Quindi se ci staranno dietro abbastanza assiduamente potrebbe diventare un giocone. Nulla di nuovo anche questo. Per tanto ormai è difficile trovarli giochi originali nuovi. Non è un difetto. Però è difficile inventare un nuovo genere. Insomma. Questo qua per le basi del gioco. Doveste puntare a creare una fucina funzionante. Con una forgia dotata di combustibile minerale metallico raffinato. Per produrre oggetti metalli. Inoltre dovreste spostare il vostro insediamento sottoterra. O almeno costruire un tetto per proteggere i vostri coloni. Il sottoterra. A differenza credo di 2 fortress. Non credo ci sia. E per sottoterra dovrebbe intendere il. Dentro la montagna. Qua abbiamo gli attrezzi. Sì ecco questo è il riassunto che volevo prima. Che è quello che abbiamo. Allora possiamo andare qui. Adesso io non ve lo farò vedere. Insomma è un gioco che. Vi dovete poi godere se vi piace. Io vi dico se questo gioco dovesse costare. Secondo me adesso ipotizzo. Che mi è più facile ipotizzare. Quando i giochi non sono ancora usciti. Che giudicare quando è già uscito un prezzo. Però dovesse costare un 15 euro. Sarebbe un affarone. Già sui 20 euro ambizioso. 30 forse vi direi. Aspettiamo lo sviluppo. Ma se vi piacciono questi giochi prendeteli. Perché bisogna giustificare un acquisto insomma. Quindi prendetelo e non pensateci. Se avete spolpato altri giochi come Rimworld. Perché voglio dire. Anch'io sono così. Quando guardavo altri giocare. E c'era un gioco uguale all'altro. Perché anche quando non facevo video. C'erano un sacco di cloni. Li prendevo. Perché a me piace il genere. Cavoli lo prendo subito. Lo gioco insomma. Perché no. Scappo anche relativamente in fretta. Lei chi è? Borghiel Black Pit. Artigiano minatrice. L'ho tradotto anche abbastanza bene. Quindi il tutorial l'ho tradotto tutto. Tra l'altro adesso che cosa possiamo costruire. Giusto per provare. Caserma, cantiere, campo da coltivare, camera da letto, birreria. Armeria. Fonderia. Tutto viene affinato in ingotto utilizzabili. Vediamo un po'. Posso fare la fonderia qui dentro. E faccio il forno a fioritura. A fioritura. Vabbè. Questo. Palle di importazione. Non me lo fa? Perché non me lo fa? Sì è lì. È lì. Ok. Faccio l'importazione qui. E l'esportazione qui. Vediamo se me lo fanno. Soprattutto dovranno spostare un bel po' di roba. Quindi vado a dirgli che il forno mi serve subito. E dovranno spostare tutti. Ah ok. Bellino. Cioè li spostano in mezzo. Per costruire. Ok. Sì poi in realtà potremmo fare anche un deposito. Comunque questo è uno. E poi cos'altro si può fare? No lascio andare avanti. Non metto in pausa. Cantiere, magazzino, raffinerie di carburante. Bituminoso. Allora no. All'entrata magari facciamo lavoratorio artigianale. Oggetti complicati. Vediamo cosa si produce con gli oggetti complicati. Adesso lo piazzo a caso qua. Già che è costruita. Voglio vedere cosa produciamo con questo. Lavorazione delle ossa. Lavoro artigianale. Lavoro artigianale. Lo produciamo immediatamente. Così che vediamo com'è. Che cosa può produrre. Questo. Produzione massima. Questo non l'ha. In attesa dell'arrivo delle risorse. Tanto stanno dormendo. Gli manca ancora una camera. Quindi bisognerà poi aspettare che costruiscano tutto. Questo è terreno. Ghiaia. Questa è terra. Questo è erba. Poi vediamo anche parete di roccia di Ardesia. Sono tutti indicati. Poi c'è un altro caretto che possiamo distruggere. Demolire. Lo demoliamo. E qua ci sono animali. Cervi. Volpi. Credo. Sì. Una volta. Vediamo se riusciamo a far vedere cosa si può produrre con questo. Ah scusate. Se io mettessi un deposito. Tipo qui. Camere. Magazzino. Continua a sbagliare. C'è un modo diverso di. Semi. Prodotti. Tesoro. Materie prime. Materie prime. Le mettiamo qua. Ok. Perché non so se poi c'è anche modo di dirgli di rimuovere. Sì rimuovi. No rimuove solo roba. Sì ma fatemi anche questo prima. Sono più curioso di quello. Facciamo meno. Anche meno. Anche meno. Facciamo questo. Stanno producendo? Qui? Ma a parte che dormono in strada. Dormono ovunque. Qua stanno producendo. Perché qua l'abbiamo già visto. Che la produzione c'è. E no. Dobbiamo andare nella coltivazione. Sta iniziando a crescere. Precierebbe vedere le lavorazioni complicate. Però non lavorano. Non so cosa stiamo facendo qua. Ma. Sì qua stanno spostando. Sì sì no. Guardate non mi interessa questo. Fate prima questo. Ok. L'hanno fatto quasi. Stanno finendo. Lavorano. Spostando roba. Sì. Ecco. Funziona. Perché stanno spostando il. Costruzione. Ci sarà anche la modalità. C'è già. La modalità pacifica. Io non l'ho fatta. Quindi dovremmo difenderci anche da. Dalle invasioni. Dalli assalti estranei. Allora. Beh. Bellino qua. Sì comunque la coppia di. Cioè. Alcune cose sono più carine qui. Che su Inboard. In realtà tipo il muro. Mi è piaciuto di più qua. Questo. L'abbiamo finito di costruire. E. Che cosa si può fare. Creazione di. Ingranaggio. Blocco. Monete. Lingotto. Carino. Chissà le monete cosa servono. Allora. Ragazzi. Questo. Questa è la mappa. Possiamo creare i canali per l'acqua. E questo mi ricorda molto. In Inboard. Non si può fare. Ma si può fare in Dwarf Fortress. Quindi. Credo si possano proprio creare i canali. di irrigazione. Non mi ricordo dove. Ma ci sono. Costruisci. No. Ho detto una cavolata io. Ma no. Ci sono. L'irrigazione c'è. I tubi ci sono. La potenza. Non so cosa sia. La potenza. Pumpa d'acqua. Vuota d'acqua. Pozzo. Mulino. Vento. Ok. Se io faccio il canale di irrigazione. Non so cosa sia. Però vabbè. Ragazzi. Il gioco. È questo. Mountain Core. Fatemi sapere. Cosa ne pensate. Calcolate che è anche moddabile. Li si possono scaricare. Questa è la. La community. Translation. Che è scaricato in automatico. C'è già anche il carattere facilitato. Quindi fatemi sapere. Che cosa ne pensate. Qua sotto nei commenti. E alla prossima. Ciao ciao. Ciao ciao.